Buongiorno di Ada Negri, estate. Nei mesi estivi il soleone rende i muri così abbaglianti che a fissarli viene sonno. Tende gialle e rosse si abbassano sui negozi. Il nastro di cielo, che s'allunga fra due strisce parallele di tetti, è una lamina di metallo rovente. Dolce è non far niente, accucciati sulle pietre roventi, respirando il caldo.